Ciao ragazzi, a brevissimo le audizioni per il nuovo anno accademico. Trovare dove siamo noi nel nostro ballo e inserirci al livello più corretto per tutti, così che il gruppo possa crescere in maniera omogenea. Impossibili, se l'ho fatta io è stato un miracolo! Ti volevo dare un consiglio? Fare la vostra neva audizione per la mia fama. Sì, ciao. Vengan e se entretenia. Si balla un po', si conoscono persone. Ragazzi, dovete provare perché è stato divertentissimo. È stato come salire sulle montagne russe. No, perché appena l'ho detto veramente. Va vissuta in maniera molto tranquilla perché non è l'esame di maturità e passiamo un'ora ballando, quindi spero di vedervi e di divertirci insieme. Rock Step a tutti! Alla prossima! 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 Alla prossima!